Il fragoroso KO con Napoli dopo la clamorosa vittoria di Milano. Qual è la vera VL? Domande, quesiti e analisi che ieri, ad insieme a Canestro, coach Maurizio Buscaglia ha vivisezionato nel salotto del giovedì sera di Rossini TV di Elisabetta Ferri, esaminando questo primo mese e mezzo di campionato. Un torneo che domenica alle 18.15 porterà Pesaro al secondo match casalingo consecutivo al cospetto della Bertram Tortona, in cui l'imperativo è reagire al flop con Napoli. Eravamo un team non completamente connesso tra i giocatori e questo non ci ha permesso di giocare come volevamo giocare. Poi il secondo tempo, o meglio gli ultimi 16 minuti, non posso commentarli tecnicamente perché qui noi abbiamo una regola a cui non siamo stati bravi, in cui non siamo stati bravi. Si lotta fino alla fine. Tu infatti l'hai detto, questa nostra squadra non mollerà mai. Non esiste, mi sono incavolato per quello. È la prima partita, fammelo dire, hai ragione. Poi brutti, belli, quello che vuoi, ma non ci si può permettere davanti a un palazzetto del genere. Per il lavoro che facciamo, per la piazza che rappresentiamo, di non combattere fino all'ultimo pallone. Lo abbiamo anche visto in una partita ben approcciata persa, ben approcciata vinta, perché ci è capitato di tutto, ben approcciata hanno recuperato, abbiamo vinto, anche in un campo difficile, ma anche in una partita non completamente ben approcciata, mi riferisco a Scafati. Abbiamo recuperato, abbiamo fatto, e noi siamo usciti comunque dal campo sconfitti con un altro tipo di umore, atmosfera e partecipazione. Credo che anche perché probabilmente la gran parte della tifoseria comprende che dovendoci salvare, o giochiamo così, o giochiamo così. Puoi sempre dire dove abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato lì, e abbiamo però avuto una grande forza fisica, tecnica, mentale, di cuore di recuperare. Questo ci ha permesso di andare a Milano dicendo non possiamo noi partire così e non siamo partiti così. Ora io capisco anche l'avversario importante come è successo a Milano, ma quando Milano è rientrata eravamo in vantaggio, ci ha recuperato, fine primo tempo, canestro sulla sirena, probabilmente 9000 persone che dicono ecco dai adesso è fatta. Noi non abbiamo, ma non si è mosso un sopracciglio. Quindi vuol dire che questo nostro modo deve avere una maggiore consistenza nella linearità, nella continuità. Quattro punti in classifica per la VL, ma manca ancora la prima gioia davanti al pubblico della Vitri Frigo Arena. Per favore non mi dite che merita di più il pubblico, perché già perdere quelle partite mi ha distrutto il cuore. Per cui il pubblico merita molto di più di quello che ha visto. perché sì, perché l'avete visto, perché è fantastico, perché gli vorreste vincere tutte le partite. E io non voglio che questo discorso entri troppo nella testa. Per tentare la prima gioia interna della stagione, sulla strada dei Biancorossi arriva una Bertram con due punti in più dei pesaresi e un cammino fin qui al di sotto delle aspettative, come confermato dall'ultima netta sconfitta interna con Brescia. Quindi arriveremo tutti e due da un po' di delusione, da un po' di rabbia sportiva. Per cui da quel punto di vista noi dobbiamo fare un nono sforzo, un extra sforzo, perché dobbiamo andare ad affrontare un team comunque profondo. Dobbiamo fare un lavoro importante su tutti i loro esterni, perché sono giocatori di perimetro, sono giocatori di penetrazione, sono giocatori che si innescano tra di loro, quindi più giocatori sanno fare più cose. Hanno in certi ruoli un atletismo importante, i loro lunghi giocano sia dentro l'area, ma la possono aprire, c'è questo il mid-range che loro possono avere con Radozovic, con Daum fino ai tre punti. Insomma, quindi da quel punto di vista bisogna preparare la partita, bisogna essere molto bravi nelle scelte che faremo e assumerci i rischi, ma c'è come al solito una grande, come dire, deve esserci una grande attenzione personale, individuale. Noi dobbiamo alzare questa responsabilità individuale nel giocato, in modo che la difesa del team sia fatta di tutte le prestazioni individualmente prese, ben fatte.